quando si parla di newsletter abbiamo sempre l'esigenza che siano belle accattivanti che ci scatturino con la sensazione di wow ecco in questo video vi mostrerò dei template di newsletter da cui partire per creare delle email veramente super io sono marta questo è il canale youtube di sms hosting e mi raccomando se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo subito prima di entrare nel vivo di questo tema quindi mostrarvi davvero quali sono i template che avete a disposizione con sms hosting e quei trucchetti per modificarli al top vi volevo mostrare proprio velocemente quali sono gli step per accedere alla piattaforma intanto potete iniziare con una prova gratuita di 30 giorni senza carta senza impegno in cui avete 100 email in omaggio quindi intanto provate per provare vi lascio poi il link in descrizione a questo punto andiamo nella sezione email clicchiamo sul nuovo modello e voilà come vedete vediamo l'elenco di tutti i template che troviamo in sms hosting a questo punto selezioniamo il modello da cui vogliamo partire e poi con l'editor drag and drop trasciniamo i blocchi quindi è veramente molto semplice poi andare a costruire la nostra newsletter se avete bisogno di un supporto di una mano vi lascio poi anche in descrizione un video tutorial che vi mostra davvero come modificare un template e creare delle newsletter con sms hosting una domanda che spesso mi viene fatta è se posso caricare degli html e inviarli con sms hosting la risposta è certo che sì nel senso che vedete che in questa sezione qua possiamo caricare un html file e poi anche inserire se vogliamo i campi dinamici di sms hosting quindi utilizzare un email che abbiamo già in html che magari abbiamo esportato da altri altri servizi da quello che volete voi oppure che ve l'ha strutturata uno sviluppatore potete caricarla in sms hosting inserire i campi dinamici come ciao e il nome del cliente e inviarla con un click quindi io vi consiglio il primo consiglio che vi do prima di iniziare di creare un account gratuito sms hosting e di iniziare un po scoprire queste cose e a smanettare quello che invece adesso andremo a vedere insieme sono proprio le varie tipologie di template email che trovate già pronte nella piattaforma la prima diciamo categoria che vi mostro anche perché devo dire che negli ultimi anni è stata super gettonata è quella dell'organizzazione di un evento online webinar quindi voglio avvisare che faccio webinar faccio qualcosa come sapete l'invio di una newsletter è una delle prime azioni da fare perché chi mi conosce già chi è già mio un mio lead o mio cliente molto probabilmente sarà interessato a quello che li proponi ancora di più di chi semplicemente vi segue nei canali social state vedendo adesso questo template studiato per rendere le informazioni chiare ben distribuite è appunto io vi consiglio partite da questo template e poi vedete che basterà sostituire questi questo logo cambiare i colori di questo template con quelli della vostra identità visiva cambiare i test inserire le vostre foto però il modello è già pre costituito quindi è anche semplice andare a modificarlo un'altra esigenza per cui avremo la necessità di inviare una newsletter e sono quelle classiche newsletter che mandiamo i nostri lettori i nostri utenti quando esce un nuovo articolo blog quindi parliamo di un'azienda o di un voi come diciamo come attività di personal branding il fatto di avere un blog ecco che quindi potresti o mandare una newsletter ogni qualvolta esce un nuovo articolo oppure creare delle newsletter tematiche che racchiudano un po più articoli dello stesso tema il template di questa newsletter è quello che state vedendo che è appunto il modello che trovate in sms hosting ma che poi lo potete modificare come volete però diciamo che il succo è di tenerlo abbastanza semplice logo immagini di antiprima dell'articolo breve testo che catturi l'attenzione e poi pulsantino call to action per rapportare l'utente al nostro articolo blog io ho detto però che vi avrei dato qualche consiglio però allora attenzione perché quando noi inseriamo un link nelle nostre newsletter quindi in questo caso il link di rimando all'articolo blog utilizziamo sempre i parametri utm che sono dei tag che vengono aggiunti al nostro url con l'obiettivo di poter sapere la fonte del traffico in google analytics e che ci servirà anche poi per utilizzare la marketing attribution in sms hosting quindi facciamo un esempio nel caso in cui io stia inviando una newsletter che indirizzi i miei utenti all'articolo blog o lavrò l'url www.tossitoweb.it slash blog slash nome meno articolo punto di domanda utm source newsletter utm medium email campaign name articolo questo ci permette davvero poi di andare su google analytics e di dire ok quanti utenti mi arrivano dalle mie newsletter e riesco a quantificarli a dove vanno il tempo trascorso e le cose insomma che sappiamo torniamo torniamo al tema però dei template dei newsletter template quello che vi voglio mostrare adesso è un template per un negozio d'abbigliamento o comunque per tutte quelle aziende che devono inviare delle foto molto diciamo impattante cioè in quelle newsletter in cui il core è la foto ecco che quindi io vi consiglio in questo caso un design essenziale pulito il template che adesso vi sto mostrando è in bianco e nero e lascia proprio tutto lo spazio alle immagini il mio consiglio vedete anche in questa newsletter in cui ci sono proprio le immagini ci sono dei button dei tasti se non abbiamo un sito web e vogliamo per esempio inviare gli utenti alla nostra pagina instagram possiamo mettere quel tastino che vada su instagram oppure possiamo scrivere bello in grande ti aspettiamo il negozio ecco qui le indicazioni e date il tastino per ottenere l'indicazione di vari negozio oppure chiama ora quindi veramente non è che per fare per inviare newsletter serva avere un e commerce assolutamente come diciamo sempre anzi anche le attività locali beneficiano tantissimo dall'invio delle newsletter un altro template che è super utilizzato che trovate in sms hosting è proprio quello dell'invio di una newsletter con coupon sconto e la cosa interessante è come vedete anche qui dal template che c'è questo codice dinamico che sono praticamente degli sconti personalizzati che voi potete inviare a ciascun destinatario quindi ognuno riceve un codice diverso e possono venire in negozio nell'e commerce noi possiamo segnarli come utilizzati quindi in questo modo riusciremo a tracciare ancor più i risultati del nostro email marketing perché possiamo sapere esempio quante persone hanno aperto la mia newsletter e poi capire qual è il tasso di conversione effettivo e quindi quante di queste persone sono arrivate nel mio e commerce nel mio negozio locale ad utilizzare realmente quel coupon quindi vedete che è tutto molto interessante la cosa carina è che sms hosting vi permette di avere tutto questo in un'unica piattaforma quindi ho i miei template newsletter collegati alla funzionalità dei coupon dinamici collegati alle fidelity card collegati i flussi di marketing automation a tutto il crm quindi abbiamo davvero un unico luogo dove possiamo fare praticamente tutto anche qua se non vi fidate di quello che vi dico ma no scherzo anche qua se volete mettere le mani diciamo in pasta e provare un po quello che vi sto dicendo ve lo ricordo che potete provare gratuitamente tutta la piattaforma sms hosting senza carta per 30 giorni al link che vi lascio in descrizione andiamo invece a vedere un newsletter template per e commerce perché chiaramente se avete un e commerce le newsletter sono un canale importantissimo perché con un click ci permettono di raggiungere tutti i potenziali clienti tra l'altro un e commerce al pro che i clienti per acquistare per forza li lasciano l'email quindi diciamo che forse anche più semplice rispetto ad un negozio fisico raccogliere il dato ecco il template che vi volevo mostrare che trovate in sms hosting vedete che vengono utilizzati dei campi personalizzati come il nome utente per attirare l'attenzione c'è quella formula selezionati per te che è semplice ed efficace in realtà per dati alla mano 80% dei clienti e potete creare questi banner che vedete alla fine potete creare di simili con canva è uno strumento per creare grafica c'è la parte gratuita a pagamento io ve lo consiglio vi lascio anche il video in cui vi spieghiamo come usare canva è un tool che insomma dateci un occhio perché è interessante un'altra diciamo sempre tipologia di template email che è utilizzatissimo quindi le mail per questa occasione sono super utilizzate è il black friday è in un momento il black friday cruciale perché comunque c'è sempre più competitività i costi per click di facebook ads google ads sono sempre più alti e i canali diciamo diretti quindi l'email marketing e l'sms marketing ci permettono di arrivare in maniera proprio diretta ad un costo pari a zero comunque il costo del singolo sms o del piano email però con costi veramente più bassi rispetto alle ads in sms hosting trovate diversi template dedicati a questa occasione adesso ve li sto mostrando e davvero potete proprio partire da questo design per poi rimandare ecco i vostri lead alle offerte sempre per rimanere un po in tema di newsletter particolari poi vi voglio anche mostrare le newsletter natalizie perché diciamo che il grande vantaggio dei template email di sms hosting è che sono creati qui in italia noi siamo una piattaforma italiana con i server nell'unione europea quindi anche questo ci tengo a sottolinearlo ma insomma veramente trovate i testi dei template è già in italiano quindi oltre al design trovate anche degli ottimi spunti di copy e di idee che di cui potete proprio poi utilizzare per esempio il modello che adesso vi sto mostrando è stato creato per proporre ai clienti delle idee regalo per il natale in questo caso mi basterà sostituire le foto che trovate con le vostre se volete cambiare i testi e diciamo se poi non sono appunto adeguati al vostro business e voilà il gioco è fatto quindi davvero provate provate questa piattaforma perché scoprirete tante cose interessanti per concludere quindi col sorriso in bocca vi voglio mostrare qualche altro template per varie festività perché ce ne sono tante facciamo l'esempio di halloween è una celebrazione tenebrosa che merita in questo caso una newsletter da paura mi raccomando esempio gestito un ristorante potesse creare un menù a tema e promuovere l'iniziativa anche con una newsletter come questa qui anche in questo caso voi potete andare a sostituire testi immagini e avete un template veramente interessante da cui partire vi do anche un consiglio pro quando inviate una newsletter con sms hosting vedete che alla fine ci viene dato un link che ci consente di condividere la newsletter nel social o dove vogliamo cosa possiamo fare in questo caso prendere questo link e mandare un sms ai nostri clienti come reminder dell'iniziativa quindi prima mando loro la newsletter a chi non si è prenotato mando un sms con dire ti ricordo la cena del 31 ottobre se vuoi scopri di più qui il menu inseriamo il link e quindi utilizzeremo l'email quindi il tempo che noi abbiamo dedicato per creare questo menu nella newsletter la possiamo riutilizzare come landing page per l'sms quindi vedete che anche qua ci sono dei trucchetti astuti che vi racconto sempre rimaniamo sempre nelle festività newsletter di san valentino qui anche qui ci sono poi dei video diciamo dedicati a questo quindi ve li metto in descrizione però diciamo che in sms hosting trovate dei template per inviare delle idee regalo dei menu per il ristorante dell'offerta tema san valentino come appunto la newsletter che vi sto mostrando ora festa della donna anche qui la festa della donna è sempre un'occasione per migliorare la brand reputation quindi per migliorare la percezione che i clienti hanno della nostra azienda possiamo anche qui organizzare degli sconti una scontistica dedicata alle donne possiamo andare dei piccoli omaggi oppure anche organizzare un evento a tema le newsletter in questo sono super preziose e anche qui trovate dei template come questo già pronti da appunto semplicemente personalizzare newsletter template per pasqua anche se non inviamo i classici auguri di pasqua che io non ve li consiglio possiamo però utilizzare le newsletter per mandare qualcosa un po' di più stuzzicante e anche con l'obiettivo di aumentare le vendite quindi esempio siamo un negozio di generi alimentari inviamo una newsletter con una ricetta oppure degli sconti dedicati anche qui ci sono un sacco di template da cui potete partire per creare la vostra newsletter ed ora vorrei chiudere questa carrellata di newsletter template con 5 consigli pro che secondo me fanno al caso vostro primo tema footer email attenzione perché nel footer email come vi raccontavo in un video che poi vi lascio in scheda e descrizione è necessario includere alcuni elementi fondamentali che ci consentono di non finire in spam e di rispettare il gdpr in sms hosting questo è molto semplice perché in realtà troverete il footer già pronto con i campi dinamici in cui sono inserite già tutte le informazioni obbligatorie come vedete quindi in realtà non dovrete fare nulla se non seguire consigli un po' furbi che vi do nel video che vi dicevo però poi a livello legale è già tutto a posto consiglio 2 se volete personalizzare i template newsletter e dare un tocco un po' grafico da pro vi rinomino e vi ricordo Canva che è uno strumento online gratuito che vi consente di creare delle grafiche senza competenze tecniche per esempio partiamo da un modello che tipo per esempio c'è un modello che si chiama email leader scarichiamo l'immagine che abbiamo personalizzato e la ricarichiamo semplicemente nelle newsletter di sms hosting altro consiglio vi do un sito per le immagini stock prima però faccio una premissa nella comunicazione quindi anche nelle nostre newsletter nelle landing page nei siti web e tutto è sempre meglio utilizzare delle immagini scattate da noi e non delle immagini stock perché comunque risultano più autentiche danno un coinvolgimento maggiore degli utenti e anzi se noi utilizziamo gli user generated content quindi quelle foto e quei contenuti che ci danno i nostri utenti anche nelle newsletter ha sicuramente più valore però capitano quei casi in cui voglio trattare un tema voglio mostrare un qualcosa che non ho nella mia galleria non ho una foto di questo possiamo utilizzare delle immagini di stock e il sito che vi sto mostrando che è free pick vi consente di scaricare delle immagini sia nella versione gratuita che nella versione a pagamento quindi interessante io ve lo consiglio l'ho utilizzato anche io varie volte è veramente molto molto carino altro quarto consiglio prendi spunto dai big ve lo dico sempre però ci tengo a ripeterlo se state cercando delle nuove idee per le newsletter da wow iniziate ad iscrivervi alle newsletter dei vostri competitor o comunque di aziende del vostro settore se volete un po' un sunto dei template secondo me più interessanti da cui prendere spunto vi metto anche il link sempre in descrizione e nelle schede del video 10 esempi di newsletter e qui vedrete che ne vedrete delle belle scusatemi la ripetizione quinto consiglio questo invece riguarda l'utilizzo della piattaforma sms hosting come dicevo all'inizio del video possiamo partire da un template inserire il nostro logo modificare i colori personalizzare il footer proprio per rendere la nostra newsletter coerente con l'identità visiva della nostra azienda attenzione che però una volta fatto questo lavoro la prima volta quindi prendo un template lo modifico la volta dopo devo partire da zero ricambiare il logo ricambiare il footer eccetera eccetera certo che no il consiglio che io vi do è quello di salvare l'email che vedete quindi una volta inviata la campagna posso salvare l'email come modello e quindi nella campagna successiva posso partire direttamente da quel modello che è mio personalizzato col mio logo i miei colori i miei font eccetera mi raccomando fatelo poi fatemi sapere nei commenti come vi trovate bene siamo arrivati alla fine di questo video io arrivo alla classica formula del e adesso tocca a voi quindi mettete le mani in pasta fatemi sapere come vi trovate con sms hosting se avete già creato delle newsletter col tool o se non l'avete mai create e ci provate usate i commenti io sono qui sono super curiosa se avete qualche domanda qualche curiosità sempre utilizzate i commenti oppure sapete che abbiamo sempre a disposizione la nostra assistenza gratuita telefonica via email o via chat vi do poi sempre nella descrizione tutte le informazioni per contattare l'assistenza io vi ringrazio davvero molto per essere arrivati fino alla fine di questo video vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti il canale youtube sms hosting fatelo perché ci sono sempre delle novità facciamo anche un sacco di live quindi davvero è un canale vivo a cui io vi consiglio di iscrivervi per conoscere di più dell'email sms marketing digital marketing più in generale grazie mille un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao